E' stata la capannina di Franceschi a Forte Remarmi ad ospitare ancora una volta l'atto finale del referendum per eleggere il negozio del cuore e il bagno dell'estate della Versilia. Una doppia iniziativa organizzata dal quotidiano La Nazione in collaborazione con Confcomercio e con Noi TV. La serata di sabato, condotta dal capo servizio del giornale Remo Santini con il supporto di Piero Bertolani dell'Associazione dei Comercianti, ha visto la premiazione finale dei vincitori che durante l'anno si sono sfidati a colpi di coupon e di voti arrivati da tantissimi clienti e lettori in una gara scandita dalle consuete classifiche settimanali riportate anche dal TG Noi Versilia. A spuntarla alla fine nella categoria di negozi sono state le profumerie rossi di Viareggio e la ferramenta Battelli di Pietrasanta. Per il bagno dell'estate i vincitori sono stati il bagno Aurora di Torre del Lago e il Marco di Forte Remarmi. Per loro, oltre ai premi in palio, ovvero viaggi e cene esclusive in locali rinomati della Versilia, è andata soprattutto la vittoria di una gara nata con l'obiettivo di valorizzare il tessuto economico del territorio.